Sta diventando una sorta di star sul web, sui social network, per un hashtag. Avanti tutta Renzi a casa, dice sempre, gli augura di festeggiare i compleanno a casa. Eh sì, indubbiamente. Io spero che Renzi ci regali un atto serio, ci regali le sue dimissioni, perché ricordo a tutti che è un presidente del Consiglio illegittimo, perché ricordo a tutti che l'ultimo governo eletto dai cittadini è stato il governo Berlusconi nel 2008. Dal 2011 ad oggi si sono succeduti tre governi illegittimi, il primo di Monti, il secondo di Letta e il terzo, l'attuale, di Matteo Renzi. Quindi se Renzi pensa ad avere i numeri per governare questo paese, mandi il paese subito alle elezioni e vediamo chi è numeri alla maggioranza per governare questo paese, paese che secondo noi Matteo Renzi sta governando malissimo.